Ragazzi sono Blu e bentornati nello sponsor! Faccio questa iniziativa perchè mi piace un casino E veramente ci tengo tanto a questa cosa Non voglio rimanere da solo su Youtube In quanto quando ho deciso di creare il canale Ho partito con l'idea di fare video con tante persone E all'inizio non ci riuscivo Quindi solo grazie a questa iniziativa riesco a farlo Quindi veramente grazie a voi che mi state seguendo e che mi seguirete Ringrazio in primo luogo un grande MyGiulio97 Lui mi ha aiutato veramente tanto E sì, lui fa video di Minecraft Fa video di Pokémon Ha recentemente comprato un microfono stupendo E lui fa... cioè è un grande I suoi iscritti lo seguono da un casino di tempo E su Youtube da tantissimo tempo E veramente lui merita tantissimo di essere in questo sponsor Conosce anche Ron mi pare Quindi uno dei più grandi su Youtube E... davvero I più grandi in Italia E perlomeno quindi grazie mille Giulio È stato un piacere davvero conoscerti Sei tipo adicis Sei nel mio sponsor Passiamo allora a un altro grande Passo e parto con i grandi Perché... sì perché così Lo sponsor ha uno stile Ma non è... io mi metto tutti in fila Ragazzi Ho messo prima Giulio perché ovviamente lui mi ha portato tanta visibilità Quindi volevo ringraziarlo per prima Però non... L'ordine degli altri è assolutamente casuale O perlomeno da chi mi ha contattato prima Se non ci siete ancora ragazzi Non è che non vi ho messo È che arriverete nei prossimi sponsor Basta che me lo ricordate sotto nei commenti In the description below E... ok Il secondo è Hizio 9X Hostile Hizio Famosissimo per i suoi giochi In... sparatutto Abbiamo Battlefield 3, 4 Montage epici Ho visto fare il cecchino è veramente bravissimo È... è una persona... È... no Non so cos'altro dire Complimenti Davvero è bravissimo a fare il cecchino Fossi bravo io nei giochi sparatutto O negli Ungring Game Bravo quanto è lui Davvero Sarebbe una cosa epica Eh... però non lo sono Quindi ci facciamo i minigame Poi abbiamo... velocissimi Abbiamo... NickFab01 Abbiamo fatto un video assieme in passato Mi pare E... sì Lui è un bel canale Quindi... È una persona molto simpatica Ci siamo sentiti via Skype E quindi... Ciao Nick Davvero Spero che tu cresca insieme a me Sta portando avanti un'iniziativa In cui può Nel suo canale far chiacchierare tanti youtubers Quindi passate Date un'occhiata E... Complimenti Nick Spero che tu cresca presto Così come sono stato fortunato io Poi abbiamo Pontash88A Nuovi youtubers Fa video di Minecraft È nuovissimo Ha già tanti contatti Vedo che sotto i suoi video Si iniziano a accumulare commenti Quindi complimenti Perché per iniziare così Ci va una certa Non dico solo fortuna Ma ci va un certo impegno Per cercare questi contatti Quindi complimenti E... Si avevano fatto forse Avevano parlato su Skype Non so se mi ha registrato o no In qualche video Bella Passiamo ai Nuke Game Che hanno il mio stesso designer E sono due Giovanissimi Non so se sono più due o quattro Ho perso Non so cosa ho scritto sul mio foil Sono solo due o quattro Scusate ragazzi Comunque sono simpatici Non posso da vederle Perché la loro copertina È una delle più belle su YouTube E... Sono entrato nel vedere i video E effettivamente meritano Purtroppo hanno poca visibilità Anche con le cose Con le nuove modifiche di YouTube Che modificano i feed Nel senso se uno non ha i commenti Oltre ai like E le visibili Cioè Non ha commenti sotto ogni video È difficilissimo che Che la sua Che i feed appaiano Nei canali degli altri Buona sostanza Comunque poi vi spiegherò meglio Sta cosa in un altro video Per il resto abbiamo Altri canali New Brothers Sono in due Mi pare Sempre sì E anche loro Non Boh Boh Ah sì Anche loro hanno un designer Che è molto bravo Che è un mio amico E si chiama sempre Josh0196 Lo citiamo anche qua Perché veramente Cioè Un mio amico è simpatico Lo vedete anche in qualche mio video E sì Loro hanno un bravo designer Sono passato E hanno anche dei bei video Veramente fatti bene Purtroppo peccato Per la visibilità di Youtube Dico io sempre sta cosa Perché è difficile Cioè farsi vedere E non capisco perché È stranissimo Ci sono persone capaci E non riesco A diventare famose O conosciute perlomeno Non famosissime Però Farsi un po' conoscere Dopo Dopo essersi impegnati Tanto È grandioso I Cipachops Ragazzi Sono Mi fanno morire dal ridere Ho visto il video loro Di Chatroulette In realtà ne ho visti 3 o 4 Ma Chatroulette È quello che mi ha fatto più ridere E hanno utilizzato I Marshmallow Molto bello A fine video Erano tutti pieni di Marshmallow Davvero Fatevi un salto Vi farete due risate volentieri Poi ragazzi Abbiamo TheDarkin94 Sì Ho visto il suo canale Lui fa video Di giochi Molto power Abbiamo Rome Total War Call of Duty Payday 2 FIFA 2013 Giochi Nuovissimi Stupendi Anche lui è un canale nuovo Quindi merita Veramente Tanto Di essere In questo sponsor Poi saluto Un grandissimo Si chiama Spider-Man 5717 Lui ragazzi Fa video Di Loggi E pulsanti In poche parole Lui Utilizza Crea dei pulsanti Per dei programmi Ma ci mette tanto impegno Veramente ragazzi Sta facendo più o meno Tutti i pulsanti Tutto il mondo Non so ragazzi Una cosa che non C'entra molto con i gameplay Però lui è lì Da tanto su youtube Vedo che è attivo Guarda i video di tante persone Commenta i video di tante persone Ed è effettivamente simpatico Guarda i video E quindi complimenti Spidey Spero che tu diventi Spero che diventerai un grande Anche tu Col tempo E Poi abbiamo Naughty Naughty Comit Questa ragazzi è una community Sì Sono molto simpatichi 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 Che simpatia Sono simpaticissimi Ragazzi Sono Per essere una community Appena nata Quindi sono Tante persone Accettano probabilmente Video da tante persone Quindi fateci un saldo Perché vi conviene Veramente tanto Se volete farvi conoscere Sono veramente bravi Hanno una selezione Molto buona Video di qualità E Sono persone Veramente simpatiche Quindi Li ringrazio tantissimo Di essersi fatte conoscere E Avermi Contattato Diciamo E Sì Hanno forse anche già Dei contatti Per cambiare copertina E diventare Cioè E Più Più volte E Vedo per loro Un gran futuro Poi abbiamo Poi abbiamo Chi altro abbiamo Star Star dark 99 E Sì Lui è un altro Canale di minecraft Mi pare di averlo visto Se non è lui È un altro Fare minecraft su ipad Che è una cosa che Io vedrò Vedo Sicuramente Secondo me Diventerà qualcosa di famoso Col tempo Perché stanno veramente Aggiornando tutte le applicazioni E tutto Se non è lui che fa video su ipad Comunque fa degli splendidi video su minecraft Anche lui è qui da poco Quindi vorrei aiutarlo Tantissimo Quindi benvenuto E Complimenti Star Spero tutti riesca a far conoscere E Poi passiamo Abbiamo Quit 4317 E Sì Lui l'ho conosciuto Lo conosco da un po' Ormai Ci siamo sentiti Probabilmente anche via skype E Fa anche lui Video Un po' di tutti i tipi Mi pare Non vorrei errare Perché siete veramente in tanti La lista è incasinata E Comunque Lui è una persona molto simpatica Ho visto tutti i suoi Tutti i suoi video Mi pare di averli visti quasi tutti E Fa E Sì Lui è molto bravo Quindi davvero Nell'editare E tutto il resto Quindi se vi va Fate un salto anche sul suo canale Poi abbiamo Il profeta Desto Kaiser E Sì Lui ragazzi fa video E E Un Canale che fa video di Barzellet E Mi è piaciuto molto Perché Lui utilizza anche il green screen Quindi è molto Cioè Molto Bravo nell'editing Si fa aiutare anche forse da un suo amico E Vedere il green screen Per me è sempre un piacere Cosa che non vanno in molti Qua su YouTube Quindi complimenti Sei nel mio sponsor E Sì Ti ringrazio Per i complimenti anche E Non so io come siano le sue Barzellette Perché possono piacere Possono non piacere Io sinceramente ne ho vista una Mi ha fatto ridere E quindi ti metto qui nello sponsor Bella Spero che Che tu possa avere un bel futuro Poi chi altro abbiamo Abbiamo qualcun altro Perché Ah sì abbiamo Rocco2203 Lui fa una serie in TechKit Light E poi una serie in TechKit E poi una serie in No lo so ragazzi Fa una marea di serie Vedo che cambia modpack Praticamente Continuamente E Stanno facendo veramente Tanti video Quindi Cioè Molti video Quindi molto impegno Ci mette molto impegno In ogni video E gli stavano proponendo Anche in molti delle serie Quindi vi consiglio di dare Un occhio al suo canale Perché È bravo Sì Deve forse Stare attento A quello che fa nei video Perché fa delle cose strane Non so Fa case senza vetri Allora Perché ho visto qualche su video Fa case senza vetri Non va bene Rocco Devi fare i vetri Scherzo ovviamente Sei bravissimo Spero che anche tu Riesca a emergere Poi ne abbiamo sicuramente Tanti altri Ma io Non ho la lista Aggiornata Ma ho una lista Che probabilmente Si andrà a concludere In un altro sponsor Ragazzi Grazie a tutti Per la partecipazione Se non siete Trenti Se non siete tanti Lo so ragazzi Sto tentando di tenere Un buon ritmo Con gli sponsor Ma più di così Non posso fare Arriverà nel prossimo sponsor Quindi Finiamo qua Salutiamo Sebastiano Munafo De Giro 99 Wargames Wargames Italia Bella ragazzi Da Bluefire È tutto Vi auguro a tutti Di avere un buon futuro Crescere su Youtube È veramente difficile Supportatevi Tra voi Con un bel mi piace Qua sotto E con quanti commenti Volete Io Vi ringrazio Tantissimo Bye bye Ciao